Natale è sempre più vicino Siate ottimisti perché presto arriveranno dei cambiamenti significativi nelle vostra vita Al bando ansia e preoccupazioni Toro, se siete single non sentite il bisogno di cercare nuove storie Se invece il vostro rapporto è solido allora preparatevi a vivere un Natale carico di emozioni Se siete innamorati ma non corrisposti dateci un taglio Gemelli, in amore dovrete essere molto chiari con il vostro partner, affrontare i problemi direttamente e senza equivoci Attenti soprattutto a non farvi troppo influenzare dai sospetti e dalla gelosia Cancro, se non siete soddisfatti del vostro lavoro non cercate adesso alternative perché non riuscirete a trovarle In amore possono nascere relazioni interessanti con persone inaspettate e improvvise. Stringete i denti e andate avanti Leone, sono favoriti gli incontri in questi giorni, quindi dovrete favorire le relazioni partecipando a riunioni Cene di lavoro e altre iniziative agevolate dallo scambio degli auguri natalizi Scenari positivi anche in amore Vergine, ci sono dei cambiamenti dell'orizzonte che vi agitano molto e vi rendono nervosi Attenti però a non sfogare sugli altri le vostre insicurezze Cercate invece di tenere a bada gli umori negativi, presto le cose miglioreranno Bilancia, dovrete stare molto attenti a non acuire conflitti in famiglia, nella coppia e sul lavoro Rischierete altrimenti di rovinarvi il Natale e non avere la giusta serenità per festeggiare con i parenti Cercate invece di attenuare le tensioni Scorpione, in questi giorni saranno favoriti nuovi incontri ma dovrete stare molto attenti alle nuove conoscenze Non è tutto oro quel che luccica, qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi per puro interesse. Non fatevi troppo condizionare dal primo impatto Sagittario, preparatevi a qualche conflitto determinato soprattutto da uno Vostro spirito ribelle che sembra rendervi intolleranti verso tutto ciò che vi circonda Siete stufi della solita vita e vorrete cambiare tante situazioni intorno a voi Capricorno, tenete a bada l'impulsività anche se vi sentite carichi di energia e pronti ad affrontare ogni sfida Occorre sempre cautela in ogni decisione specie quelle che potrebbero poi avere delle conseguenze difficili da gestire Acquario Approfittate di questi giorni che precedono il Natale per sistemare certe situazioni in famiglia, superare incomprensioni e litigi Se può aiutare forse è il caso di non restare chiusi in casa ma progettare un viaggio o comunque una gita fuori porta Se siete soli da troppo tempo non precludetevi la possibilità di nuovi incontri, l'amore potrebbe stare sotto l'albero Create le condizioni per un Natale sereno Cercando di stemperare incomprensioni in famiglia e nella coppia Siete favoriti da un clima positivo Natale è sempre più vicino e allora andiamo a scoprire i consigli di Paolo Fox per questo mercoledì 19 dicembre con l'oroscopo tratto dalla App Astri A riete, non fatevi troppo condizionare dalla paura di sbagliare Siate ottimisti perché presto arriveranno dei cambiamenti significativi nelle vostra vita Al bando ansia e preoccupazioni Toro, se siete singoli non sentite il bisogno di cercare nuove storie Se invece il vostro rapporto è solido allora preparatevi a vivere un Natale carico di emozioni Se siete innamorati ma non corrisposti dateci un taglio Gemelli, in amore dovrete essere molto chiari con il vostro partner, affrontare i problemi direttamente e senza equivoci Attenti soprattutto a non farvi troppo influenzare dai sospetti e dalla gelosia Cancro, se non siete soddisfatti del vostro lavoro non cercate adesso alternative perché non riuscirete a trovare In amore possono nascere relazioni interessanti con persone inaspettate e incontrise Stringete i denti e andate avanti Leone, sono favoriti gli incontri in questi giorni, quindi dovrete favorire le relazioni partecipando a riunioni Ceni di lavoro e altre iniziative agevolate dallo scambio degli auguri natalizi Scenari positivi anche in amore Vergine, ci sono dei cambiamenti dell'orizzonte che vi agitano molto e vi rendono nervosi Attenti però a non sfogare sugli altri le vostre insicurezze Cercate invece di tenere a bada gli umori negativi, presto le cose miglioreranno Bilancia, dovrete stare molto attenti a non acuire conflitti in famiglia, nella coppia e sul lavoro Rischierete altrimenti di rovinarvi il Natale e non avere la giusta serenità per festeggiare con i parenti Cercate invece di attenuare le tensioni Scorpione, in questi giorni saranno favoriti nuovi incontri ma dovrete stare molto attenti alle nuove conoscenze Non è tutto oro quel che luccica, qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi per puro interesse Non fatevi troppo condizionare dal primo impatto Sagittario, preparatevi a qualche conflitto determinato soprattutto da uno Vostro spirito ribelle che sembra rendervi intolleranti verso tutto ciò che vi circonda Siete stufi della solita vita e vorrete cambiare tante situazioni intorno a voi Capricorno, tenete a bada l'impulsività anche se vi sentite carichi di energia e pronti ad affrontare ogni sfida Occorre sempre cautela in ogni decisione specie quelle che potrebbero poi avere delle conseguenze difficili da gestire Acquario Approfittate di questi giorni che precedono il Natale per sistemare certe situazioni in famiglia, superare incomprensioni e litigi Se può aiutare forse è il caso di non restare chiusi in casa ma progettare un viaggio o comunque una gita fuori porta Pesci Se siete soli da troppo tempo non precludetevi la possibilità di nuovi incontri, l'amore potrebbe stare sotto l'albero Create le condizioni per un Natale sereno Cercando di stemperare incomprensioni in famiglia e nella coppia Siete favoriti da un clima positivo .